Che traversi, è una gara spettacolare! C'è la tosta fino alla fine. Vi porto con me dentro al campionato più bello del mondo e sto parlando ovviamente del trofeo Aprilia RS in 60. Loro sono i nostri piloti e adesso ve li presento. È un sogno che viene dal tuo adrenalino. Super excited. Il trofeo mi ha migliorato come serie di guida, come persona e la testa. È il migliore. Sto continuando a crescere. È un pieno di adrenalina. Edizione 2024. Filippo Bianchi versus Mattia Sorrenti per il titolo. Ma sono sicuro che non avrò rimpianti comunque vada. Cercherò solo di fare il meglio possibile l'ultimo giro. Giù i semafori rossi e si va! I nostri stanno risparmiando, ragazzi. Una super gara. Bianchi di nuovo davanti. Sorrenti è veramente incollato la posteriore di Bianchi. Guarda la bandiera a scacchi e vince! Filippo Bianchi ha vinto! Siamo cresciuti insieme alla squadra per girare più forte in tutte le piste in cui siamo andati. Quindi sono veramente contento. Bravo Pippo! Bravo, bravo, bravo! Si chiude oggi con Filippo Bianchi vincitore l'edizione 2024 del trofeo Aprilia RS660. E noi vi aspettiamo numerosi per la prossima edizione. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!